Nei sedicesimi di Coppa Italia, Serie D, il Pineto vince per 5-1 tra le Muramiche contro il Tolentino. In vantaggio i Biancazzurri con una doppietta di Giambè e il Neoquisto Forgiore nel primo tempo. Nella ripresa Vitiello accorcia per i marchigiani di Filippo e Maio. Nel finale chiudono la pratica la compagine abruzzese e sfiderà dunque l'Arezzo negli ottavi il prossimo 11 gennaio. Calcio inizio per i padroni di casa. La partita vede subito i Biancazzurri mettere la frescadella nel sorpasso. Giambè approfitta di un lancio lungo e a tu per tu con Giorgi non ha problemi a confezionare l'1-0. Sempre il numero 11 calza i panni di uomo assist al dodicesimo. Sfonda la difesa avversaria, pallone al centro per il Neoquisto Forgione che ringrazia e trova la prima rete con il nuovo club. Ancora il calciatore africano sfiora doppietta personale e tris ma solo il palo salva la formazione ospite. Una mancetta di minuti dopo il Tolentino prova a rispondere con Ciottilli ma la sua conclusione termina alta. Al ventesimo altra chance per gli abruzzesi. Giambè trattenuto guadagna un prezioso calcio di rigore. Lo stesso si incarica e realizza il 3-0. Nella ripresa il match vede sempre lo stesso copione. Emili si accentra e calcia a giro. Giorgi vuole devia in corner, il Pineto padrone del campo vuole arrotondare ma il Tolentino si salva come può. Per i cremissi però arriva la soddisfazione della rete. Vitiello approfitta di un momento favorevole e di collo colpisce alla perfezione battendo De Gidio. Nel finale però ci pensa Di Filippo ridisegnato in posizione avanzata a sfruttare l'ottimo assist del giovanissimo. Ne è entrato Piccioni nel crepuscolo del match e nel secondo dei 5 minuti di recupero Maio rende ancora più larga la vittoria e il passaggio del turno.